cari amici mese di maggio milano ci ritroviamo per farvi vedere un avanzamento lavori che forse è la via definitiva siamo al qt 8 al mercato comunale di via esernia con le immagini di paolo rusconi partiamo questi sono i rumori del cantiere c'è già una recensione intorno a noi stiamo seguendo il perimetrale vi faremo vedere cosa c'era fino ad oggi e cosa c'è adesso nel 2022 sperando che col nuovo anno ci sia l'inaugurazione di questa struttura che così verrà tolta dalle strutture abbandonate e pericolose che abbiamo seguito in questi anni il cantiere è stato come potete vedere tutto recintato il pezzo esterno rimane comunque in precarie condizioni fuori dal cantiere ci sono ancora tutti i san pietrini rotti bottiglie perché comunque la vita notturna non è ancora terminata guarda anche qua la prostituzione adesso è il male che c'è intorno a questa struttura c'era anche prima adesso c'è in un'altra forma ma c'è comunque sempre tutti si tovagliolini stanno a significare questo e qui potete vedere lo spiazzale interno queste sono le famose scale dove si scendeva dove si arrivava sul retro dove c'era tutto quel bell'appartamento arredato che abbiamo trovato l'ultima volta con le bombole del gas e qui sotto c'era anche quella casetta in cemento che vi ricordo è stata il rifugio di quel individuo che poi ha fatto una violenza sessuale negli scorsi anni qua è stato trovato proprio lì ed eccoci questi sono i nuovi giacigli che sono stati fatti spaccando i vetri guardate i vetri per terra si quadra proprio per terra i vetri e qui potete vedere tutta l'oggettistica le coperte di queste persone che hanno deciso di venire a vivere qua dentro ricordo che siamo in un periodo post covid 19 giugno 2020 e siamo dentro il mercato del QT8 guardate cosa è successo domani qua ci sarà Salvini ma in italia deve scapparci il morto perché debba succedere una cosa così guardate i vetri sotto cari amici di city report con friend diamond paolo rusconi alla camera dove siamo tornati in un posto custodito che si chiama casva cioè il mercato comunale del QT8 fidatevi di noi di custodito e di sicuro qui non c'è proprio niente Frank no la cosa assurda qua è che la pezza è peggiore del buco ovvero gli hanno costruito un fortino e come vedete il nostro amico Frank l'ingresso è fattibile molto tranquillo anche dalla parte destra quindi si entra praticamente dappertutto il nostro Frank si fa una bella passeggiata ti direi di lasciar perdere perché in fondo non ci sono profumi molto lieti torna pure va proseguiamo siamo nel lato est del mercato comunale del QT8 come vedete da fuori sembrerebbe tutto a posto vedete la strada eccetera ma noi che abbiamo l'occhio lungo e vediamo tutto ed ecco una matrimoniale signor paolo rusconi cameraman delle nostre puntate e questo attrezzino qui questo attrezzino qui non ci piace molto all'ingresso sembra molto un'arma quindi buttiamo via possiamo richiudere le porte qui del motel QT8 guardate beh che dire senza parole e siamo venuti sotto il QT8 sul lato destro come vedete hanno lucchettato ma guardate dentro cosa c'è sono aumentati addirittura i posti quindi il menefreghismo totale manifestazioni che avranno e prenderanno il tempo che hanno questa è aperta non riusciamo a entrare perché l'hanno bloccata dall'altra parte non si fa vedere nessuno ma ci sono dentro ma vi portiamo una novità eh da un mese e mezzo fa che siamo venuti guardate adesso da dove si entra al QT8 chissà se domani qualcuno di loro se ne accorgerà ah sì vedrà il filmato oggi di city report e possiamo partire vedete diamond frank è entrato dal nuovo ingresso che è stato aperto proprio il giorno prima della manifestazione della lega con salvini e adesso andiamo a vedere cosa succede andiamo ed ecco il nostro diamond frank che sta uscendo dal nuovo sopralluogo nuovo ingresso 19 luglio allora frank è tutto sporco ragazzi ma è normale che sia così sbavagliati raccontaci un attimo quello che hai visto dentro c'è un corridoio molto lungo mi tolgo la mascherina sinceramente lì l'ho tenuta per sicurezza c'è un corridoio molto lungo ci sono anche delle porte bloccate sigillate quindi c'è il pericolo che ci sia anche qualcuno all'interno se hai trovato allora ci sono sacchetti ci sono piumoni per dormire c'è spesa abbiamo trovato anche una carta fidati probabilmente rubata e tra l'altro io mi sono anche bucato il piede perché c'erano vetri buttati per terra e chiodi esatto va bene ringraziamo friend diamond insomma avete visto che la situazione al qt 8 il giorno 19 luglio non ci sta proprio allora questa la scorsa settimana abbiamo parlato insomma della mancanza di bagni eccetera questo è un altro angolo che adesso che è stato murato non si entra più funge per quella funzione anche qui ed eccoci nel pezzo del magazzino sul lato ove sul lato est scusatemi c'è già del materiale che credo che sia del caso come potete vedere dalle immagini diciamo che la situazione è un po così è incomprensibile abbiamo anche un aquilone un pezzo di qualcosa del casva che è volato lì sopra perché non oso immaginare molto simile a quelli che ci sono dentro ma andiamo a vedere il posto dove dormiva quella persona che vi dicevo prima che è stata condannata per quel brutto violenza sessuale che è avvenuta qui un po di mesi fa vediamo com'è l'ex alloggio allora qua vediamo che è stato chiuso ci sono le grate qui invece come facciamo sì anche qui è stato chiuso c'è un lucchetto sicuramente c'è stato un tentativo di apertura come potete vedere questo è il lato est di via esernia mercato comunale officina d'arte urbana aspettando il casva questa è la recinzione che delimita l'aria di cantiere un cantiere che dovrebbe portare qui la struttura del casva quindi 100 arti visive e per ora quello che vi facciamo vedere è l'evoluzione che in questi anni ha avuto questo posto sicuramente non si è badato a spese nel fare il cantiere abbiamo visto la gru abbiamo visto il bobcat ci sono tutte le attrezzature cominciamo già avere un'idea più o meno di quello che si sta facendo lì sotto c'era uno dei famosi ingressi sotterranei da quella porta e questa era tutta l'aria di pertinenza che non veniva più usata ma continuiamo a seguire il cantiere andiamo a vedere invece il pezzo sotterraneo sulla parte dall'altra parte sul lato sinistro vediamo cosa troviamo e siamo nel lato sud abbiamo appena visto gli operai abbiamo fatto due chiacchiere con gli operai il cantiere sta andando avanti secondo loro molto tranquillamente anche noi non vediamo nulla di particolarmente strano certo fa una certa specie vedere insomma adesso lo spazio così dopo tutti questi anni in cui era diventato veramente un luogo pericoloso da frequentare addirittura da passarci intorno posteggiare l'auto adesso è un cantiere ma sicuramente ha elevato diverse delle problematiche che c'erano salvo quella della prostituzione che invece quella è un discorso molto più complesso qui siamo nella parte sud adesso risaliamo e andiamo a vedere il lato sinistro dal dietro ci segui andiamo e questa era un'altra aria molto controversa sotto dove venivano i pernotti quindi nella parte grigia che vedete sopra c'era questa aria grigliata come vedete ancora le sbarre in molti punti sono ancora di velte tranne quella che è stata proprio aperta per fare i lavori e qui sotto veniva un po di tutto veniva lasciata merce rubata si pernotava ci tenevano anche dei cani per un periodo quindi è successo veramente di tutto in questi ultimi cinque anni qua sotto adesso anche qui vederla vuota è un bel passo in avanti speriamo per il futuro proseguiamo city rapport 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 city rapport